La verità, mi faccio da solo una presentazione, anche io, signore e signori, Hermes di Leonardo, in arte strindule, e gli ha detto sono 100 euro, e lui ha detto va bene salga. Saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille... Grazie a tutti. Ed eccole qua, fate, lasciamo lo spazio ai nostri cameraman per fare tutte le inquadrature necessarie, le riprese. Bene, a questo punto Federica andiamo al centro del palco. Andiamo al centro del palco. Cominciamo, c'è Paola Rizzotti che è pronta con la... Cominciamo, c'è Paola Rizzotti che è pronta con la... E a questo punto il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia 2014 va alla concorrente numero 18, Anna Buratti di Corno di Rosazzo. Eccolo 11 al centro del palco, prego con la consegna delle fasce e dei premi. Viene consegnata la fascia. E da Paola Rosani, Miss Friuli 2013, viene consegnata la Corona Miluna a Miss Friuli Venezia Giulia 2014, Anna Buratti. La passerella per Miss Friuli Venezia Giulia 2014, un applauso grandissimo.